Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gullvai e S.M.R. Sono qui con un tramezzino parra toast e un po' di succo di frutta, quello tropicale che mi hai visto bere su Instagram per raccontarti una specie di story time, per introdurre una specie di argomento ansia sociale, non so se c'entri con l'ansia sociale, però so che alcune persone, alcune creature hanno il problema simile al mio, problema, tra virgolette, tra mille virgolette, problema, e quindi mi sembrava carino, forse carino, parola giusta, parlarne in un video con uno story time per far capire l'argomento, per far capire quello che vorrei intendere. Quindi sarò anche un po' mukbang, qualcuno potrebbe scrivermi, ma cosa ti costava mangiare prima? No, è stato un vecchio commento di un vecchio video sul vecchio canale che stavo mangiando credo un toast e mi era stato commentato, ma quanto ti costava? No, ma ti costava tanto mangiare prima il toast e poi fare il video? E io ho risposto, beh, se no costava troppo, ma c'è una cosa del genere, avevo bastanti soldi, ho una cavolata del genere e mi è rimasto impresso. Allora, questa luce fa un caldo assurdo. Allora, cos'è successo? Allora, sei già creatura che io lavoro in ufficio attualmente, poi dopo, vabbè, sono stata rinnovata, come ho detto nella live precedente a questo video, solo di due mesi, quindi vabbè, poi si vedrà dove andrò a finire. No, per ora sto lavorando in quell'ufficio. Ancora, questo inverno, avevano organizzato una cena tra colleghi e non so se lo sai, creatura, ma io ho un po' di difficoltà nel mangiare in luoghi pubblici con estranei. Ok, loro non sono estranei perché li vedo ogni giorno e pranzo anche con loro in ufficio, ma è proprio un ristorante che mi fa un po' non ho più fatto esercizio, cioè non sono più uscita a mangiare fuori e quindi è difficile. Non so bene spiegare, anzi non lo so proprio spiegare il motivo per il quale faccio fatica a mangiare fuori e per quello anche è difficile per chi non prova questo disagio capire o tentare di capire e anche, cioè non so spiegarlo, però chi ha difficoltà come me può capire. Se stai guardando questo video ti dici, ma questa è pazza, com'è possibile mangiare fuori una cosa così normale? Sappi che per te è normale così, magari per te è difficile fare qualcos'altro che per me è normale fare, quindi... Sei pazza come me. Ecco, quindi non ci dichiamo subito la gente così, perché alla fine in realtà siamo tutti un po' speciali. quindi, fly down, vabbè insomma a parte le scherze, non riesco a fare un video serio. Allora, appunto è successo questo, no? Loro hanno deciso di andare al ristorante e io tra una... Diciamo che in quel periodo era successo quell'incidente e in quel periodo non avevo l'auto perché era rotta e... però volendo sarei potuta andare comunque, però diciamo che ho preso la scusa, la palla al balzo, no? Ho approfittato di questo imprevisto per dire di no, pensando che finisse lì e buono, no? Allora, loro fanno la cena tutti felici, contenti e sembra tutto ok e risolto. Nonché qualcuno nell'ufficio gli stia a dire Ah Marta, non ti preoccupare, faremo un'altra cena tra colleghi così puoi venire anche tu e io. Davvero, davvero. Wow. E insomma, continuavo con questa storia che avremmo mangiato in pizzeria e soprattutto perché io non ero riuscita ad andare l'altra volta. Ero tipo, cazzo, adesso mi tocca andare perché praticamente l'avevano organizzato per me, quasi, adesso anche per loro. Però qualcuno continua a ribadire, ah che bello, sì, questa volta riesci a venire anche tu. Ok. E chi ha il mio stesso problema capirà perché sto dicendo queste cose. Quindi si avvicinava sempre di più questa serata, tant'è che alla fine ho accettato. Perché, insomma, mi dispiaceva dire di no di nuovo, però non volevo neanche dare spiegazioni del perché. Cioè, e poi mi dispiace, allo stesso tempo mi dava fastidio mentire. Ok. E quindi, tra tutte queste cose ho preferito andarci e provare. Qualsiasi cosa sarebbe successo, non importa, volevo provare a essere come tutti gli altri, essere una persona normale. E niente, quindi, ti racconto questa mia esperienza, ok? Come l'ho affrontata, quello che è successo, quello che ho provato, eccetera, eccetera. Così forse chi non conosce questo tipo di problema può conoscere una cosa nuova e magari anche aiutare qualcuno che ce l'ha. E chi invece ce l'ha può capirmi e anche può prendere spunto o darmi consigli che questi lì accettano i diari. solo per chi ci passa e c'è passato, non qualcuno che si improvvisa su tutto io della situazione. Perché un conto è pensare di sapere le cose, un conto è saperle. Fa una grande differenza, ok? Allora, a meno che tu non sia uno psicologo e allora dico, vabbè, le cose le sai, non ci sei passato, ma le sai per forza. Perché il tuo lavoro aiutare le persone come me. Allora, organizzano in una pizzeria dove non sono mai stata. Ma è che ne ho viste poche, però se è un luogo in cui non sono mai stata, sono ancora più agitata. Non so per quale motivo. Vabbè, organizzo, siccome una ragazza del mio ufficio abita in un paesino, vicino al mio e andava su con i suoi genitori che i suoi genitori poi andavano a mangiare fuori da altre parti. Mi fa, vuoi che ti passiamo a prendere e andiamo tutti insieme? E io ho detto, va bene. Quindi sono andata in macchina con loro che non conoscevo, però è stato molto divertente, molto simpatici. Ci scherzavano, abbiamo scherzato tanto, abbiamo parlato di tante cose, quindi è andata bene in macchina, ero già agitata comunque. Ma tra l'altro mi sono vestita carina con un vestitino truccata, solito stile un po' ufficio, un po' serale così elegante. Perché appunto eravamo tutti colleghi, quindi non mi sono sentita di vestirmi come mi sarei vestita magari normalmente, con il mio stile ecco. E quindi appunto, perché c'era anche il coordinatore, cioè non c'erano solo colleghi. E quindi, niente, i genitori della mia collega ci hanno portato in stazione. Da lì una collega sarebbe venuta a prenderci, perché facevamo una macchinata e ci mettevamo di più, insomma, per andare tutti insieme. E quindi, niente, arriva la collega, noi stiamo lì un po' ad aspettarla. Mi sento agitata, ma non troppo, sento che sono tipo un'emozionata, più che agitata. Sentivo che stava sotto controllo, però avevo sempre la paura che mi venisse un attacco di panico. Così in macchina un po', in macchina un po', la butto lì dicendo, eh, se mi vedete strana, sappiate che io ho un po' un problema a mangiare fuori. L'ho buttata così, ma nessuno ci ha dato peso e... È stato giusto così. Sì, sì, tranquilla, Marta, mi hanno detto non preoccuparti, ok? Arriviamo lì e pian piano arrivano anche gli altri. Io mi ero seduta tipo... Ah, c'era un tavolo lungo, mi sono seduta tipo ai margini del tavolo, no? Perché sento sempre che se non c'è nessuno che blocca il passaggio, io posso alzarmi e andare via in qualsiasi momento. No, che una collega mi fa, ma dai, cosa fai? Ti siedi là in fondo, mettiti qua vicino a me. Io ero tipo... No... Io, però non potevo dire no, io sto qua da sola, faccio l'antisociale, anche se in realtà dopo sarebbero arrivati altri colleghi che avrebbero riempito gli altri posti, però lì per lì ho detto che adesso. Ho detto, vabbè dai, e mi sono seduta appunto vicino a lei, quindi ho perso il mio posto, quello... Di fuga, ecco, quello dove mi sentivo un po' come l'uomo. Però già che eravamo, già che eravamo seduti fuori, per me era... significava molto, ecco. Fuori è molto più, non lo so, meno opprimente, 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 sì, in realtà milanese all'improvviso. Vabbè, insomma... E quindi, insomma, mi ritrovo in questa situazione e è arrivato il momento di guardare il menù e scegliere qualcosa e ero tipo... Non avevo tanta fame, ero agitata e quando sono agitata, anche all'ansia, mi si chiude lo stomaco, quindi anche per quello faccio fatica a mangiare fuori, perché... Però penso sia tutta una questione di abitudine. Comunque, appunto, cioè, dovevo scegliere qualcosa, tutti stavano scegliendo delle pizze giganti, che io ho questa cosa che mi fa bloccare, che quando arriva il cibo... Più ce n'è, più è grande il piatto, con più roba, più mi spavento, come... Non so spiegare. E quindi... Cioè... Ho detto, se mi prendo una pizze gigante, come stanno facendo tutti gli altri, sono sicura che ne mangio una fetta e poi mi blocco. Non ce la faccio a finire, in realtà non ce la farei comunque neanche a casa, perché io mangio in un modo che... Mangio un boccone, mangio una fetta, mangio metà pizza, poi dopo un po' la rimangio. Cioè, insomma, mangio a step, perché il mio stomaco è piccolo e si riempie subito, quindi io mangio poco e spesso. Ed è forse anche per quello che sono così magra, non lo so. Comunque, magari durante il giorno, mangio tutto il giorno, mangio una cosa ogni ora. E... Infatti, quando sono al lavoro mi vedono sempre mangiare. Ma mangio tipo, non lo so, arrivo e mi mangio uno yogurt, poi due ore dopo mi mangio i tarallini, e un'ora dopo faccio pranzo e via così, insomma, no. A me, magari poi mi mangio qualcosa di dolce. Invece, avere una pizza lì che devi finire in un tot di minuti, perché altrimenti poi si deve andare via e non te la puoi portare a casa, non te la puoi mangiare più tardi. Cioè, è così, insomma, beh, difficile per me inseguire certe regole umane. E... E quindi ho detto, beh, mi prendo una margherita, che è relativamente piccola, non c'ha tante robe sopra, e quindi sforzerò a buttarla giù, insomma, a mandarla giù. Stava passando il treno e ho approfittato per mangiare un altro po' di toast. Vabbè. Quindi appunto siamo rimasti al fatto che scelgo la margherita, perché mi sembra l'idea più ragionevole al momento. Arrivano i commenti. Ecco, una cosa che non capisco, che non riesco proprio a capire degli esseri umani, creatura, se riesci a darmi un'esplicazione. Te ne sono grata. Se riesci a farmi capire perché alcune persone, alcuni esseri umani, reagiscono così, fanno queste cose. Fammelo sapere, grazie. Quando arriva la cameriera per prendere le ordinazioni, io faccio... Tutti dicono la loro, io dico margherita, tutti. Margherita, prendi solo una margherita. E ora volevo tipo dire, ma scusami, io ti ho rotto le palle perché tu hai preso pizza tot, cioè nome, adesso io non mi ricordo i nomi delle loro pizze, però io mi sono permessa di dirti, siccome c'erano anche persone, per non fare un po' di shaming, molto in carne, ok? Ma molto, molto in carne. Io non mi sono permessa di dire, mamma mia, tu sei... Passatemi il termine. Tu sei obesa, ti prendi quella mega pizza. Io non mi ho detto niente. Io mi sono presa la mia pizza, non ho rotto le palle a nessuno. Ma perché tu devi venire a farmi osservazione sul fatto che io mi sono presa la margherita, ma che te frega? Cioè che cacchio te ne frega? Cioè, hai capito? E in quel momento che tutti stavano lì a giudicarmi solo perché avevo preso una margherita piuttosto che un'altra pizza, dopo che io era già tanto che ero lì e che ci ho pensato tanto per scegliere quella cavolo di pizza perché ero sicura che se ne prendevo un'altra mangiavo un boccone e poi mi bloccavo. Cioè, ma devo anche renderti conto a te del perché mi devo prendere la pizza e devi farmi osservazione. Cioè, boh, a me... Perché mi devi fare osservazione? Io non ti ho detto niente della tua. Cioè, non capisco sta cosa. E sono partiti, insomma, sono la margherita, bla bla bla. Insomma, io sentivo queste voci da ragno che dicevano che sono le margherita, bla 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 bla. Così, no? E lì mi sono sentita un sacco più a disagio e mi stavo agitando ancora di più. Così ho... Sono stata ditta. Non li ho neanche guardati in faccia finché mi dicevano questo. Li ho proprio ignorati. Perché se avessi reagito probabilmente mi sarei agitata troppo e saremmo anche finiti per litigare. Quindi avrei dato una rispostaccia tipo, non lo so, qualsiasi cosa purché di farli stare zitti. Invece ho deciso di tenere la bocca chiusa e di ignorare. E ha funzionato perché dopo un po' se ne sono stati zitti hanno cambiato argomento. Perché hanno visto che io non ho reagito. Anche se era da dentro stavo morendo. Ma non... Sono... Penso, spero di... di aver mascherato bene la situazione. E quindi, insomma, ero in questa situazione di disagio del cavolo. fossi finita solo qua. Direi vabbè dai il mio è passato. No. È arrivato il momento in cui hanno portato le pizze. Quando le hanno portate c'era un caldo bestiale perché la pizze era calda e buttava su calore poi eravamo tutti vicini. Io non avevo la mia via di fuga perché mi si era abbiazzato un tizio dell'ufficio alato. E quindi mi sentivo come in trappola non so come spiegare questo calore che mi veniva su. E... Però ho detto vabbè tutti stanno concentrati nel mangiare la propria pizza. Provo anch'io. Così la taglio pian piano e mi inizio a mangiare una fetta e mi inizio a mangiare un'altra fetta. Sono riuscita a mangiarne tipo A. Non ho detto che quando mi è rifatto il piatto era tipo gigante no? Era una pizza gigante nonostante fosse solo margherita quindi basic ma era gigante e quando l'ho vista ho detto cazzo ce la farò finire la tutta? No. Già mi stavo bloccando così però appunto poi mi sono sforzata e appunto ne ho mangiata forse metà non mi ricordo però so che ne ho mangiata non tutta ma ne avevo tipo metalli o anche un po' meno di metà avanzato e c'è chi di quelli che mi dicevano inizia una margherita la loro chiara piena piena di condimenti l'ha mangiata in un secondo tipo con boccone io avevo la margherita facevo fatica e però cercavo tipo di cioè vedevo che mi guardavano e più mi guardavano e più mi bloccavo e cercavo di far fingere di non essere lì tipo di non che non stesse succedendo e guardavo l'altro mio collega che lei si era presa una mega pizza con un sacco di condimento che stavo faticando a finirla vedevi che era piena e quindi mi sono sentita meno a disagio perché dicevo beh ma anche lei fa fatica poi lei ha preso una mega pizza e c'è anche un motivo più valido però cioè così insomma e poi dopo l'angelo è sceso dal cielo allora hanno iniziato tutti a dirmi non la finisci non la mangi tutta allora io magari l'avrei anche mangiata tutta ma con il fiato sul collo di gente che ti guarda e ti dice e ti critica e ti rompe le balle non ce l'ho fatta avevo fame volevo finirla perché era molto buona però avevo tutto bloccato e non ce la facevo però l'angelo è sceso dal cielo di cui stiamo parlando è un collega che si era seduto dall'altra parte del tavolo dove stavo io ma adesso che lo so io mi siederò vicino a lui per sempre anche se non ci saranno più gene però se dovessero succedere penso che mi siederò vicino a lui a saperlo prima mi sarei seduta subito vicino a lui e e insomma mi ha detto posso mangiare una fetta della tua Nicola gli ho detto ma se per me puoi mangiarla anche tutta e lui se l'ha mangiata tutta gli ho dato il mio piatto lui mi ha dato lo suo e lui se l'ha mangiata tutta anche le grosse che avevo lasciato lì mangiucchiate da me le ha mangiate tranquillamente cioè voglio dire grazie Nicola di esistere cioè come ha fatto così mi ha tipo tolto un peso che non ti rendi conso quando mi ha preso il mio piatto e si è mangiata la mia pizza nonostante io avessi ancora fame e l'avrei mangiata però non riuscivo mi ha tolto un peso che non ti dico io tipo l'ho amato in quel momento io ero tipo piena di amore verso di lui amore platonico ovviamente perché aveva fatto quella cosa che mi aveva risolevato cioè così più nessuno mi ha guardata nessuno più ha guardato il mio piatto dicendomi che là stavo che non mangiavo insomma è stato tipo il mio salvatore in quel momento perché anche a volte quando sono a casa che non riesco a finire qualcosa magari c'è Sam e quindi non riesco mai a mangiare tutta la mia cena perché do sempre qualcosa a Sam quindi si alleggerisce come il piatto non so come spiegarlo credo sia una roba psicologica e se no io avanzo sempre qualcosa perché non ce la faccio a finire le porzioni perché è un conto se faccio da mangiare io e so quanta fame ho e quindi mi metto sul piatto quando voglio io se invece il piatto me lo fa qualcun altro magari ne mette meno e vabbè e lì si può sempre aggiungere ma se ne mette troppo e io lo avanzo lo so che è tipo un maleducazione ma io non posso mangiare più di quello che mi ci sta se no vomito come normale che siano e quindi quando mi fanno le porzioni gli altri è difficile cioè è brutto per me mi sento disagio perché appunto loro non sanno quanto fame ho e quanto riesco a mangiare cioè non so come spiegarlo e infatti cioè sono contenta di mangiare quando mangio a casa perché faccio io da mangiare e mi faccio quello che voglio e in più mi metto quanto cibo voglio nel piatto e insomma quando mi è è successa la cosa che Nicola ha preso il mio piatto e ha mangiato la mia pizza io mi sono sentita sollevata in quel momento ero contenta mi era andata via l'ansia tutto e avevo detto wow ce l'ho fatta a superare questa serata poi siamo stati lì ancora tra l'altro uno mio collega quella che stava faticando a finire la sua pizza mi ha detto vuoi vuoi assaggiarla vuoi una fetta della mia gli ho detto stai facendo non riesci più a finirla o perché hai visto che Nicola si è mangiato la mia cioè era per capire se lei aveva bisogno di aiuto o se era un gesto così per farmi mangiare non lo so e lei mi fa no sto scoppiando allora ho detto va bene dammi metà di quella fetta lì l'ho assaggiata era molto buona e l'ho fatto perché Nicola mi aveva aiutato e quindi volevo aiutare anche io lei però non ce la facevo mangiaglia da tutta perché sennò mangiavo la mia però anche solo il fatto di avere metà della sua fetta sul mio piatto che era poi il piatto di Nicola Vuoto però vabbè dettagli era meno pesante che avere una mega pizza gigante davanti buono lo so è una roba strana sì penso sia una cosa totalmente psicologica che però non ho capito da cosa provenga questo problema che ho a me e niente quindi ho mangiato anche una fetta una mezza fetta di quell'altra pizza che valeva come due pizze margherite perché sopra aveva tipo formaggio patate al forno speck rucola no non mi ricordo aveva un botto di roba andiamo lì e vogliamo prendere il dolce e e la ragazza la collega che stava che era riuscita alla fine a finire la sua pizza mi fa prendiamo un dolce in due questa cosa di dividere il dolce mi è piaciuta l'idea e quindi tutto va bene e quando la la cameriera ha detto ha elencato i dolci a voce onestamente mi facevano voglia a tutti non sapevo cosa scegliere e dato che era stata il mio collega a proporre di prendere il dolce insieme ho fatto scegliere e lei ha detto scegli tu per me è differente perché mi fanno voglia a tutti e lei ha scelto la cheesecake con i frutti di bosco e anche altre persone hanno scelto di prendere un dolce in due e allora ci siamo appunto divisi questa torta però a lei non piaceva non so strano perché lei è molto amante di dolci ma in questo caso non so c'era qualcosa che secondo lei era strano le piaceva non so cosa o forse era piena però essendo amante dei dolci avendo gli occhi più grandi dello stomaco l'ha voluto prendere perché ne aveva voglia ma poi ha mangiato una cucchiata e si sentiva forse esplodere e mi ha detto mangiala tu io mi ero mangiata la mia metà e poi quando mi ha detto no no basta io basta mangerò tu pian piano l'ho finita perché era una piccola fetta in questo piattino e quindi boh poi ho visto che anche gli altri andavano lenti quindi l'ho mangiata pian piano l'ho finita poi qualcuno si è preso il caffè poi alla fine hanno preso degli amari delle cose super alcoliche e io ho bevuto il limoncello che però era tipo benzina a gusto limone e lì l'ho preso subito malissimo cioè mi sono briaccata con quello mini bicchiere di limoncello che tutti facevano alla goccia no io l'ho bevuto pian piano perché mi bruciava tutta la gola io avevo preso anche l'acqua da bere e mi ero preso parole anche per quello perché prendi la birra ma senti prenderò di cavolo che voglio tipo anche su questo mi devi rompere le scatole cioè veramente alcune persone lo fanno per scherzare sicuramente qualcuno di voi guardando questo video penserai mamma mia non ti si può dire niente io penso ma c'è bisogno di rompere le balle sull'acqua su che pizza prendo perché io non lo faccio perché io non vengo a giudicarti a romperti le balle a farti osservazione su quello che mangi perché tu dovresti farlo a me e quindi niente tu andresti da una persona obesa a dire che prendi quella pizza così farcita e cioè gli romperesti le balle stessa cosa non ti dovresti permettere di venire da me a dirmi e ti prendi solo la margherita ma se non cazzi mi è cioè ma scusami devo rendere conto te cazzo sei un nutrizionista cioè boh vabbè e io questa cosa proprio non riesco a capirla perché fanno così le persone quindi creatura se hai qualcosa da dirmi dimmelo adesso cioè commenta io non ho idea se questo argomento se questa cosa del non riuscire a mangiare fuori fa parte dell'ansia sociale o se fa parte dei disturbi alimentari perché secondo me non è né uno né l'altro e non saprei dove catalogarla onestamente quindi io nel titolo metterò ansia sociale ma perché mi sembra più ansia sociale che disturbo alimentare perché io comunque mangio ho fame il problema è che mi agito troppo perché la gente mi rompe le balle cioè oppure perché già io sto incasinata di mio non lo so comunque prima di mangiare con qualcuno devo prenderci confidenza cioè non so perché a sto blocco che non vorrei avere perché mangiare è una cosa naturale della vita però faccio una fatica bestia cioè anche se mi c'è anche una cosa che dici sforzati sì ma se mi sforzo è un blocco poi vomito cioè non è così facile già è tanto che adesso riesco a mangiare e uscire mangiare e andare più in macchina mangiare uscire fuori a piedi mangiare uscire in generale no che prima non uscivo forse non credo e riesco anche a fare aperitivo l'aperitivo è più leggero perché c'è un piattino con delle cose piccole e gli alcolici mi rilassano quindi l'aperitivo è diverso e la cena che è pesante cena pranzo ecco pensa che una volta è avutamente problema che non riuscivo neanche a cenare e pranzare con i parenti perché erano in tanti wow quello adesso lo faccio tranquillamente vado anche fuori a fare aperitivo tranquillamente mangio in ufficio insieme a tutti gli altri ovviamente quello che mi porto da casa io oppure mi prendo i cestini quelli e la mensa che però lì sono tutti confessionati quindi apro e mangio quello che voglio e se voglio avanzarlo c'è sempre qualcuno che se mi vede mi fa osservazione però me ne strafrego perché devo farlo devo fare così per forza e prendo e metto via cioè anche lì se mi mani lo mangi tutto no cioè ma non dicessero solo quello e iniziano e mamma mia e iniziano a commentare a dire cose di cui potresti evitare di dirle quelle cose ma tu mangi perché sei così magra ma che te frega cioè ma cosa te ne frega a te cioè è quello che non capisco anche dire la gente deve capire che dire sei troppo magra dovresti mangiare di più sempre invisibile bla 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 è allo stesso livello che andare da una persona in sovrappeso e dirgli eh dovresti mangiare di meno sei grassa cose del genere è lo stessa cosa quindi perché non lo fai alla persona in sovrappeso ma ti senti in diritto di poterlo dire a me perché cioè è lo stesso livello uguale identico è identico cioè questa le persone penso che non lo capiranno ma spero che un giorno lo capiscano perché avete un po' rotto anche le palle eh io non lo faccio apposta ad essere così e ci ho messo tanto ad essere al peso che ho raggiunto adesso perché prima ero sotto peso adesso sono normopeso e infatti non ho più il corpo androgeno che avevo prima ho messo un po' popi anche e anche un po' di parte superiore davanzale così così che prima ero proprio piatta cioè davanti dietro uguale quindi però non l'ho fatto per gli altri l'ho fatto per me però non dovete rompere le balle cioè dopo tutta la fatica che ho fatto raggiungere sto peso non mi dovete venire a dire che sono ancora troppo magra perché cavolo cosa è la fatica che ho fatto ecco è come se non avessi fatto nulla vabbè insomma a parte questo che non c'entra niente vorrei sapere cosa ne pensi a riguardo se vuoi scrivermi la tua esperienza se invece ti vergogni di commentarlo sotto il video che preferisci scrivermelo su Instagram privatamente va bene lo stesso se hai qualche consiglio se ci sei dentro questa situazione oppure se ne sei uscita vuoi dirmi qualcosa fai pure libero sfogo i commenti sfogatevi pure e appena mi viene in mente qualche altra cosa di tipo ansia sociale o cosa del genere che mi va di portare sul canale perché così possiamo condividere insieme il nostro disagio te lo porterò te lo farò sapere creatura spero che questo video ti abbia rilassato o fatto conoscere qualcosa di nuovo io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura